Parto solo dal principale titolo dell'Ansa di adesso, Italia sempre più a rischio attentati. Questo è l'allarme dei servizi, ditemi voi, con un governo complice, come ci difendiamo? Perché a questo punto dico io quello che non può dire lui, il governo non è incapace, è complice. Il governo sarà moralmente e concretamente complice di ogni eventuale, preghiamo Dio che così non sia, disgrazia che ci stiamo portando in casa. Quindi io gli chiederò, se vorrà, di sottoscrivere personalmente anche la denuncia nei confronti di un pessimo capo della polizia, che non difende i suoi uomini. Sul ministro dell'Interno stendo un velo di rispettoso silenzio e spero che quanto prima occuparsi di forze dell'ordine a livello del governativo ci sia un uomo che dalle forze dell'ordine viene. Senza forzare né incoronare nessuno, sicuramente da cittadino italiano, da padre, mi sentirei più protetto da un ministro come Gianni Tonelli che non dall'attuale compagine di governi filo inizione. E quindi aggiungerò qualcun altro agli elenchi. Oggi mi hanno chiamato diversi sindaci della provincia di Venezia allucinati dalla minaccia, ormai siamo alle minacce, non solo contro i servitori dello Stato ma contro dei sindaci eletti e dei cittadini. Il prefetto di Venezia ha preannunciato di ricorrere alla magistratura nei confronti dei sindaci che non vogliono immigrati nel loro paese. Ormai siamo al delirio, spero che questo prefetto venga messo sul primo barcone destinazione sconosciuta perché ormai abbiamo veramente superato la soglia di normalità, di limite, di buonsenso e di intelligenza. Ultima notazione, visto che Renzi ha detto che l'Italia riparte e che il lavoro gira, secondo me in caserma a Bologna, nella caserma che ho visitato ieri, il lavoro può girare se invece di pulire i cessi una volta alla settimana, cessi usati da 700 donne e uomini, magari per far ripartire le economie del Paese, se riescono ad assumere qualcuno per pulirli due o tre volte alla settimana, forse uno esce in servizio con maggior spirito e maggior animo. Io ringrazio le forze dell'ordine di qualunque corpo per la pazienza che stanno portando. Parlando con molti di loro, e questo dovrebbe far riflettere il Governo e lo Stato, penso che la pazienza delle forze dell'ordine sia infinita, ma ormai quasi finita. E se a dire no inizieranno a essere polizia e carabinieri, ne vedremo delle belle. E quindi noi ce la mettiamo tutta, massimo sostegno a Gianni, anche perché è uno dei pochi in Italia che facendo lo sciopero della fame è dimagrito. Di solito funziona il contrario e quindi... Però ecco, gli faccio un appello, penso e spero che sia di tutto il tavolo, con oggi basta. No, con oggi basta. Con oggi basta, ci diamo i turni, a me due o tre giorni fanno anche bene. Però non diamogliela vinta e visto che il Presidente della Repubblica, il Ministro dell'Interno, lo stesso Santo Padre, incontrano chiunque e telefonano a chiunque, ecco, trovare cinque minuti di tempo per un rappresentante delle forze dell'ordine, penso che potrebbe non essere difficile, però devi essere in grado di parlargli. E quindi ti chiedo con oggi di lasciare la staffetta a qualcun altro, non diamogli la soddisfazione di farti portare in ospedale, perché poi magari ti metti una maglietta e ti processano per un'altra maglietta. Quindi penso che con oggi il messaggio sia arrivato e ti ringrazio per il cuore e la carne che ci hai messo e ci hai lasciato.